Ha creato anche un clima di polemica che, devo dire, ieri con i comuni abbiamo addolcito con tanto affetto. Quindi non esiste nessun problema per le regioni, se non quello naturale, che se io fossi un presidente della regione che ha 7 province e 22 asel, mi preoccuperei di ridurre il numero delle asel, cioè delle poltrone, e magari questo potrebbe aiutare ad avere delle performance ospedaliere migliori. Poi naturalmente è fondamentale la battaglia per i costi standard, noi continuiamo a farla, è inaccettabile che ci siano le stesse cose che costano in 20 regioni in modo diverso. Ma questo è buonsenso.